E' ancora polemica su Coingas, una bufera che si era alzata in seguito alla decisione di sostituire l'amministratore unico della partecipata del Comune, Filippo Ceccarelli, e di adottare un consiglio di amministrazione a tre, composto dal nuovo presidente Sergio Standerini e da due consiglieri, Carla Gigli e Rossana Fucini. Coingas ha avuto nell'ultimo anno da occuparsi di questioni molto importanti, al punto tale che il suo amministratore unico, il dottor Ceccarelli, a cui va il mio personale ringraziamento per tutto quello che ha fatto per Coingas e per il Comune di Arezzo e per i comuni che fanno parte di Coingas, è stato un impegno quasi assorbente, al termine del quale, approvato il bilancio, lui ha preferito rassegnare le dimissioni. Questo ha reso evidente come la molle di lavoro che si svolge dentro Coingas, anche per i rapporti che ha con Estra, con i rapporti che sta instaurando con AISA Impianti per la creazione di un polo energetico di grande importanza, non erano più gestibili da una sola persona, a meno che non facesse solo quello di mestiere. Ecco perché si è voluti passare dall'amministratore unico alla CDA, quindi al Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti. Circa i costi è bene ricordare che nel 2015, quando il dottor Ceccarelli prese l'incarico, si passò da un Consiglio di Amministrazione a cinque componenti a uno a una componente sola. Il vecchio Consiglio costava 35 mila euro, di cui 25 dedicati al solo Presidente e gli altri distribuiti tra gli altri consiglieri di amministrazione. Fu ridotto a una sola persona che ebbe un emolumento più basso. Oggi, passando a tre, siamo arrivati a un compendio di emolumenti che ovviamente superano quello che prendeva da solo il vecchio, diciamo, il dimissionario dottor Ceccarelli e raggiungono un totale di 28 mila euro che è comunque inferiore ai 35 mila che pagavamo prima. Un cambio della guardia deciso con il benestare dei sindaci di Sansepolcro, Castiglionfiorentine e Subbiano, ma non quello di Bibbiena. Bernardini, infatti, si è opposto rompendo con critiche feroci il cosiddetto asse della 71, l'intesa che ha unito le amministrazioni di centro-destra della provincia a Retina. Dei tre consiglieri, uno è stato messo a disposizione del territorio. Mi è giunto questo nome, potrei anche non dire da che parte mi è giunto, ma rappresenta comunque una parte, perlomeno, dei comuni che non sono a Rezzo. Quindi, secondo me, non ha motivo di lamentarsi.